Dalla Coppa prime buone indicazioni, squadra incline alla costruzione, mentalità propositiva con giocate predefinite. L'esempio più lampante, zappella che va dentro, scambia con bocice e conclude. Ma la cautela nei giudizi è d'obbligo, del resto siamo solo agli albori. Le priorità, un mediano al fianco di Pompetti e una prima punta che attacchi la profondità. La difesa, il reparto più completo e competitivo. Pompetti la nota più bella della serata di Coppa, il classe 2000, cresciuto nel vivaio, disegna calcio a grande qualità, ma al suo fianco avrebbe bisogno di un mediano di corsa, sostanza ed equilibrio. Pompetti è un play puro da 4-3-3, può eccellere anche a due e mezzo al campo, a patto che il compagno di reparto abbia le caratteristiche di qui sopra. Con Busellato, se dovesse restare, e un calciatore come Rizzo o similare, il reparto nevralgico sarebbe perfetto. In attacco serve una prima punta che attacchi la profondità con caratteristiche diverse e complementari rispetto a quelle di Ferrari. Centravanti di struttura con altre peculiarità. Marilungo e De Marchi, che si è mosso bene, sono soprattutto seconde punte. Nella ripresa con l'Olbi alla squadra ha accorciato il campo e alzato il ritmo. È sempre la distanza tra i reparti a fare la differenza. Ciò che si è visto nel secondo tempo. Sotto questo profilo i progressi sono più che confortanti, ma, ripetiamo, siamo solo agli inizi. I Sardi hanno schierato sei under, tre 2000, due 2001, un 2002, di cui due all'esordio assoluto tra i professionisti, il portiere Ciocci e il difensore centrale Boccia. Nel finale è entrato anche il baby Alessio Glino, classe 2005. Sabato 28 agosto, alle 20.30 all'esordio in campionato all'Adriatico, i Biancazzurri affronteranno l'Ancona materica di Colavitto. Si tratta di un team già collaudato, corsa, equilibrio e organizzazione, le qualità migliori dell'undicidorico. Mercato, Busellato e Galano in stand-by potrebbero restare, ma non è scontato. Se dovesse partire Busellato servirebbero due mediani. Uno potrebbe essere Rizzo, che vuole fortissimamente tornare a Pescara. Per liberarlo però la Triestina deve prima trovare un sostituto all'altezza. Nulla da fare invece per l'attaccante Francesco Margiotta, già proposto un anno fa al Delfino e poi tesserato dal Chievo, da cui si è da poco svincolato dopo gli ultimi noti accadimenti che hanno riguardato il club Clivenze. Margiotta non scenderà in C. Il classe 93, Scuola Juve, ex Losanna e Lucerna, potrebbe restare in B. Il Cosenza spinge, oppure optare per la pista estera.